Ieri c'è stato un consiglio comunale dove abbiamo portato l'approvazione all'unanimità di una convenzione con l'OGS che utilizzerà anche l'Università di Parma per uno studio della rocca sulla quale poggia la chiesa di San Martino e anche uno studio del versante dove c'è l'abitato. Inizieranno già domani, inizialmente con dei sopralluoghi, e poi già la prima settimana di maggio inizieranno il vero e proprio studio che secondo me auspico che entro metà giugno, fine giugno, ci possa dare dei dati assolutamente importanti. Le tecniche sono molto all'avanguardia nel senso che utilizzeranno sia un sistema elettrico che un sistema sismico e in base alle risultanze di queste onde riusciranno a capire dove c'è la roccia, di che consistenza è e a che profondità è. Non manca la rassicurazione del Vescovo, la diocesi, sottolinea Don Renato, darà tutto il suo supporto per far fronte alla seria situazione che si è creata e si sta facendo il possibile per capire come mettere in sicurezza i tanti beni culturali e ecclesiastici di cui la Chiesa è dotata. A destare qualche preoccupazione è la sottostante frazione di costa, ma gli abitanti, precisa il sindaco Hofer, possono dormire sonni tranquilli. Ad oggi un pericolo vero e proprio non c'è, credo che lì stiamo lavorando in anticipo e stiamo lavorando bene con la provincia che si coordinerà insieme all'OGS e all'Università di Parma per poi fare anche dei sondaggi più tradizionali proprio dove riusciranno a trovare la roccia, anche lì per capire la stratificazione del terreno. Grazie a tutti.